Ben arrivati, ben arrivati, anno nuovo inizia di parte Info Magazine condotto a sottoscritto da altri collaboratori per quanto riguarda STV e questo spazio noi lo dedichiamo a personaggi che alla metro, in Calabria o in Italia ci fanno parlare di noi. Oggi parleremo di un cantautore, di un evento che c'è in città, un evento importante, già organizzato brillantemente da Antonio Costantino che fra poco avremo qua, parleremo di questa rassegna musicale che si darà al Teatro Grandinetti, rassegna che è già iniziata precedentemente con la cover di Lucio Ralla e con Ricky Portere che è il chitarista di Lucio Ralla. Domani sera ci sarà un nostro cantautore importantissimo per la Calabria, l'abbiamo ricordato a fine anno con Amadeus in collegamento con Rai 1, nell'anno che verrà, è sempre ricordato dai maggiori musicisti italiani e parliamo di cantautore, parliamo di Rino Chietano e per l'occasione e per parlare del concerto che si ti ha dato ogni sera al Teatro Grandinetti ho il piacere di avere Antonio Costantino. Ben arrivato Antonio. Ciao Giovanni. Ciao, grazie dell'invito. Ci accomodiamo, non so se sono stato così tanto chiaro. Chiarissimo, chiarissimo, chiarissimo. Allora, oggi è l'11 gennaio, domani sera sarà il 12, però domani sera sarà dal Teatro Grandinetti per la città della Mezzeternia e per la Calabria, possiamo dire, ti sarà organizzata dalla vostra associazione Notte di Stelle e si parla di Rino Chietano. Rino Chietano è un cantautore famosissimo a livello nazionale e internazionale, dove ha avuto un panorama musicale piccolo, corto nella sua vita, perché sappiamo che nacque nel 1950 e morì il 2 giugno tragicamente a Roma in un incidente stradale nel 1981. E su questo ne parleremo, perché fu un incidente... 8 anni, 8 anni di carriera musicale. Esatto. Fu un incidente un po' che lui lo scrisse anche come dovevano venire fatti in una canzone, no? che diceva che San Camillo rifiutava, infatti, le parole che lui disse in una canzone si ripeterono nel fatto accidentale suo. C'è questo mito, probabilmente, un mito... Esatto. Il vero nome di Rino Chietano è Salvatore Antonio. Rino Chietano. Rino Chietano è sottile a Stadremo, era un cantautore un po' rivoluzionale all'epoca, era apprezzato da pochi, da Cioventano, Lucio Dalla, Reggiani Morandi, però dai media non era apprezzato, perché era un po' rivoluzionario. Lui si è trasferito da Crotone a Roma, dove visse per gli altri anni, no? Però non dimenticando mai la sua terra, i suoi Natali. E che è successo? Praticamente venne portato da Vittorio Salvetti, lo venne portato al Festival di Sanremo, dove con Gianna ebbe un enorme successo. Ci fu l'esploit di Rino Chietano. Poi ci furono tante canzoni che fece parlare due, una famosa, il cielo è sempre più blu, che infatti quando si entra al Crotone, è un inno, quando si entra al Crotone, si vede subito la sua immagine in gigantografia presso le case popolari di Crotone, dove c'è scritta questa famosa frase, il cielo è sempre più blu. Il comune di Crotone ha fatto una statua, no? A nome di Rino Chietano, è ricordato sempre negli eventi che si fanno. C'è quel murale, c'è bellissimo. C'è il murale, ci sono tante cose. E viene ricordato sempre da parte dei più grossi cantautori Rino Chietano. Fatto stare che i suoi pezzi sono sempre ricordati dai cantautori o dai cantanti più importanti che ci sono sul panorama nazionale, internazionale. Allora voi, cosa vi siete organizzati? Queste, diciamo, carrellate di cantautori che non esistono più, diciamo, in un certo senso, e avete iniziato giorno 7 dicembre con la, diciamo, la long cover di Lucio D'Aglio. Un tributo a Lucio D'Aglio. Un tributo a Lucio D'Aglio e con la presenza di Richie Portere che è il chitarrista di Lucio D'Aglio. Certo. Però vi siete ripetuti, questo brusure la dici tutta, e la seconda data è appunto il 12 gennaio con Alessandro Chietano. Chi è Alessandro Chietano? Alessandro Chietano è il nipote diretto di Rino, è il figlio di Anna, della sorella, che è un po', diciamo, lei sta tenendo un po' vivo questo ricordo del fratello e della sua produzione musicale, dell'intera sua produzione artistica. Avremo quindi l'onore, insomma, di conoscerlo qui alla Mezzia Terme, Alessandro, che io ho avuto già il piacere di conoscere, è un ragazzo splendido, anche lui, diciamo, che si continua a portare avanti, insieme alla mamma, questo ricordo del grande, indimenticato zio Rino. E saranno due ore, quasi, di musca, di spettacolo, di spettacolo, su tutti i pezzi di Rino Chietano. Esatto. Diciamo che è una copia quasi originale. Guarda, loro sono bravissimi. Sono bravissimi. Sono bravissimi perché hanno un'interpretazione pazzesca. Poi, che vuoi? Uno spettacolo emozionante, perché essendoci il nipote, che è un vocalist anche lui, un cantante anche lui, quindi, insomma, l'emozione sarà doppia, quindi l'emozione sarà rivivere i pezzi, sarà quella anche di riviverli ascoltati da Alessandro. È un viaggio emozionale, tra gli astri della musica, di autore. E questa frase, voi l'avete scritta sui, diciamo... Sì, questo è un po' il vostro... Lo slogan della rassegna. Lo slogan della rassegna della vostra associazione, diciamo, no? Sì, di questa rassegna, che è la prima edizione, diciamo, di questa rassegna con questi quattro appuntamenti. Quello di domani, quello del 12 gennaio, appunto, è un appuntamento molto sentito dal pubblico lametino e calabrese in particolare. Infatti c'è una volta presenza che arrivano da Crotone e da altre parti della Calabria. Guarda, c'è un grossissimo interesse, infatti c'è un tasso di presenza molto alto al teatro, il teatro sarà pieno e sarà ancora più divertente, quindi la serata e lo spettacolo ancora più divertente e, come dicevo prima, ancora più emozionante, perché poi ci rimangono in mente serate, musiche, e brani quando trasmettono emozioni, fondamentalmente la musica, l'arte in generale, trasmette emozioni e quelle emozioni sono quelle che rimangono e che ti fanno, insomma... Continuiamo a parlare di Dino Chetano. Durante la sua vita, breve vita, diciamo, nacque, come diciamo, nel 1970... 73 inizia da Calabria. nel 1950 e poi morì nel 1981, a 30 anni morì in licenza serale, però in questa sua breve carriera ha scritto tanti pezzi che veramente sfornavano continuamente, pezzi che in quel momento non erano apprezzate la critica, venivano anche censurati, E' giusto, Giovanni. Però poi, nel tempo, si sono riaperte le porte, sembra che la musica, i pezzi di Dino Chetano sono in voga di nuovo, sono di nuovo... non sono pezzi vecchi. Pensa come è stato antesignano lui dei tempi, quando già nel fine degli anni 70 componeva questi brani, e che oggi sono di un'attualità pazzesca, quindi il genio che si risveglia e si rivive oggi di brani scritti 40 anni fa, ormai, anzi, tra 40 e 50 anni fa, oggi si rivivono in un modo incredibile, bellissimo, e attualissimo, devo dire, pensa tu, prima accennavi a Gianna, no? Gianna, con cui è andato a Sanremo, Gianna è il primo manifesto incredibile dell'emancipazione femminile, se ci pensi, cioè... Che non è tanto pensato all'epoca. Beh, perché all'epoca comunque ebbe, sì, ebbe questa novità musicale che non fu apprezzata come si sta rivalutando. Facciamo che lui era un po' scansonato ed era preso un po' per il passo delle musiche, no? Un po' che, diciamo, forse anticipava troppi tempi in quel periodo. Ma non si capì. Non si capì, probabilmente. Era un'attesa che non si capiva. Sì, probabilmente non si capì. o più che non si capì, ecco, forse non si amò quanto si sta amando oggi e quanto si sta apprezzando oggi. Ma perché probabilmente, ecco, lui è antesignano, ha visto avanti questi tempi e oggi li stiamo toccando magari con mano. Pensa a Non te regga più, no? A quella spivata di personaggi, di avvenimenti e di eventi di cui lui parlava su Non te regga più. Allora, però poi, quando lui fece Sanremo, insomma, non è che ero l'ultimo. Arrivò tra i primi tre e figurate che c'era, all'inizio c'era Anna Ox con un'emozione da pochi, vati a bazzare e poi si classificò Rino Chietano. Perché, appunto, diciamo, l'oreno più classica, la musica più classica, più melodica, più Sanremese. L'esperto Sanremese. Esatto, più Sanremese. Questa è un po' la canzone delle, diciamo, ribelle. Tipo, come posso dirle, che abbiamo adesso, ce ne sono tanti, no? Era di denuncia. Era di denuncia. Era già una canzone di denuncia, un brano di denuncia, un pezzo di denuncia. Infatti, lui andava molto d'accordo con Renato Zero. Sì. E se ci pensi anche musicalmente, no? Un po' anomalo rispetto al target, no? Che si presentava del brano che si presentava a Sanremo in quegli anni? Infatti, tanto in modo che lui era rivoluzionario, venne anche invitato nella famosa trasmissione di Acquario di Maurizio Costanzo, dove fece anche scalpore, insomma, cosa faceva un cantautore di Beller a Maurizio Costanzo, un giornalista. Però a Maurizio Costanzo, sappiamo come è fatto, gli piacevano le sfide e fu invitato dal quale dove ebbe un enorme successo e dove lo presentò ufficialmente al pubblico, oltre ai pezzi. Anche quello è stato uno sdoganamento, secondo me, nella storia di Rino. Poi magari Alessandro a teatro ci racconterà qualche altro aneddoto, perché poi sai, l'evento sarà un po' interfacciato o con alcuni momenti in cui Alessandro racconterà pezzi di vita, pezzi di aneddoti, retroscena o retroletture magari dei suoi brani. E chissà che non racconti pure di questo appuntamento che ha avuto con Maurizio Costanzo, che all'epoca effettivamente già allora sfornava questi come Talent Scout sfornava questi diciamo andava a scovare ecco qualcosa di nuovo e di interessante che ci potesse essere negli artisti. Poi fece parte anche del Festival Bar perché dopo tutte queste dopo Gianna Sanremo tanti pezzi che lui fece che ebbe il consenso di grandi artisti anche di Renato Zero cioè all'entrano lo ripeto di tutti questi lui partecipò anche al Festival Bar dovrebbe anche un enorme successo degli artisti l'altra volta abbiamo parlato di Lucio Dalla sai che c'è un racconto che fece Lucio in una trasmissione televisiva in cui racconta di aver incontrato sto ragazzo in autostrada all'autogrill o al casello insomma incontrò sto ragazzo con una chitarra sulle spalle ovviamente ha capito che era un musicista gli chiese dove andava lui disse sto andando a Roma voglio andare a Roma voglio andare a fare musica pensa che Lucio Dalla gli diede un passaggio a Rino Gaetano non so se è il primo passaggio perché lui arrivasse a Roma o comunque diede un passaggio a Rino Gaetano e lo raccontò Lucio in una trasmissione televisiva questo aneddoto appunto poi però questo evento che ci sarà domenica certo a Tocantinetti devo dire che nulla togliere ai tutti i grandi artisti che Dalla che ho già fatto con Ricky Portera nulla da togliere a Giancarlo Carisi per quanto riguarda Fabrizio De Andrè e nulla togliere ai famosi insomma i mitici Beatles che saranno il 16 marzo ma questo secondo me la mia opinione è il più bello di tutti perché questo è quello che ti piace il più di tutti infatti io domani sera sarò presente ci mancherebbe altro sarò presente perché è quello che mi gusteva di più perché c'è una storia di un personaggio forse c'è una storia anche da Calabrese ecco la storia delle nostre origini nella sua letteratura ha scritto tanto degli ultimi degli marginati degli ultimi al sud non si sente un po' come il codino d'Italia e quindi si rispetta sì perché noi viviamo al sud vivendo al sud capito ci sentiamo un attimino e lui ha sempre ha tenuto in considerazione e ha sempre narrato un po' degli ultimi nella sua storia musicante partiva l'emigrante con un mucchio di riviste quindi insomma ha sempre tenuto l'operaio della Fiat ha sempre parlato e tenuto insomma botta no agli ultimi diciamolo così e noi un pochettino soprattutto nei tempi della grande emigrazione no in cui usciva lui con i brani dal sud alle fabbriche del nord ecco che lui raccoglieva questi sentimenti quasi quasi fatto sta quello che stai dicendo tu degli ultimi l'immagine gigantografia appena entra il crotone è messa nelle case popolari bene guarda quello significa gli ultimi perché di solito nelle case popolari non le va togliere ci stanno sempre gli ultimi certo e invece la sua immagine questa gigantografia mensa gigantografia che bellissima che dice il cielo al crotone il cielo è sempre più blu cioè perché e la dice tutta quella frase ma proprio messa là in quel contesto di quel degrado che c'è al crotone e quella abbellisce quella zona di case popolari certo ecco un riscatto anche là ecco vedi le case popolari al crotone dove il cielo è sempre più blu è sempre più blu e se tu noto ormai quelle immagini c'è da tanti anni ogni tanto viene ritoccata non sbienisce mai perché ormai è diventato l'emblema di crotone ed è bellissima fatto sta che nell'anno che verrà fatto a crotone ad amareus adesso il 31 dicembre se tu dicevi crotone tutti dicevano rino vietano infatti c'è stato proprio c'è stato un momento bellissimo dedicato a rino vietano insomma e rino vietano ha fatto ballare una piazza insomma è uno che farà cantare ancora tante generazioni sì in una vita artistica molto ma ti ragazzi hai sentito ancora cantare a mano a mano a mano a mano o quanto noi io chiedo scusa di non poter mettere i pezzi perché sono facebook mi taglia l'intervista però io vi invito a gustarvelo domani sera perché diciamo Alessandro Alessandro Grietano il nipote di Rino Grietano proprietario dei diritti d'autore di Rino Grietano e insomma con la stessa sua diciamo voce o modo suo ha riproposto tutto diciamo il repertorio del suo zio sì con dei musicisti tra le altre cose bravissimi perché sono tutti dei musicisti professionisti lui ha messo insieme per fare questa opera di ricordo dello zio anzi a dire il vero è la mamma è Anna Gaetano la sorella di Rino che ha messo in piedi questa iniziativa che cura insieme al figlio Alessandro di ricordo del nipote i musicisti scelti sono tutti incredibilmente bravi pensa una sorpresa c'è anche un musicista calabrese di Soverato il tastierista nella sua band e non poteva mancare ovviamente un musicista calabrese poi ci fu il tragico giorno della sua morte diciamo tristissima molto triste fu 8 gennaio del 1979 quando una mattina con la sua Volvo 343 una autovettura perse il controllo in un incidente e un camion gli è andato addosso detto dal camionista raccontò al camionista che lo vede prima accasciarsi e dopo sbattere cioè nel senso che fu colto da Malore da Malore di Noietano la cosa è che lui non era morto subito e ci fu diciamo anche questo ci fu un processo il fatto che tutti gli speravano di Roma dicevano che erano tutti pieni finché venne ricoverato e ormai fu troppo tardi morì la mattina alle 6 del giorno dopo del 1979 aveva 30 anni e quella data e molti cantatori molti artisti se la ricordo come una data tristissima andò via un pezzo di musica nascente italiana e internazionale perché poi la sua carriera ci sono tanti pezzi però poi vengono riproposti in questi anni da tutti gli artisti più grossi Anna Ox ognuno ricorda Rino Rietano sembra un personaggio che non è mai andato via sempre tra di noi lo sentiamo sempre vivo perché per fortuna non per fortuna non è per fortuna è per ovviamente capacitarti per le sue brani oggi sono più che più che mai attuali più che mai attuali ecco come dicevamo prima e forse questo è il segreto anche del del suo successo questa denuncia popolare questa voglia ecco di come dicevo prima di esaltare di cantare degli emarginati bellissima poi tutto questo carrellare di donne c'è quasi quasi un fil rouge nella sua produzione musicale in cui ecco lo spettacolo di stasera di domani sera è appunto Berta, Mariù e le altre in cui il filo conduttore sarà appunto questo parlare delle donne che sono non soltanto Berta, Mariù Gianna eccetera ma una spilza di nomi parlavamo che era un po' come venne l'incidente era stato raccontato in un pezzo di Dino Vietano e si intitolava La ballata di Renzo e queste erano le frasi che lui ha messo in quel pezzo infatti la strada era buia erano le 6 del mattino infatti si andò al San Camillo e non lo accettarono forse per l'orario ed è successo pure questo insomma si pregò tutti i santi ma si andò a San Giovanni e lì non vogliono per lo sciopero fu rifiutato da tutti questi sperali infatti era era penso sia una mitizzazione comunque dell'evento del suo brano c'è questa questa sono strofe diciamo del test del suo brano fu l'orario fu quello gli ospedali si rifiutavano c'era lo sciopero c'è qualcosa che è che è rientrata nel mito sicuramente e magari anche di questo ci parlerà Alessandro chi lo sa perciò domani se sarà un grande concetto ma sarà anche una grande storia di Dino Chietano assolutamente secondo me sarà un momento triste divertente perché lui faceva i pezzi divertenti e che ci ricordano la nostra gioventù o la gioventù attuale perché come dicevo prima non tramontano mai i pezzi di Dino Chietano sono sempre attuali e futuristici è vero è verissimo questo è un po' ecco è anche la caratteristica di tutta la rassegna in ogni rassegna non c'è un concerto fine a se stesso in ogni rassegna c'è un personaggio in ogni data della rassegna in ogni spettacolo della rassegna c'è un personaggio legato a doppio filo con il ricordo del tributo quindi come per Lucio Dalla c'è stato Ricky Portera quindi chi meglio di lui poteva raccontare di Lucio questa volta ci sarà addirittura un pezzo della sua famiglia un pezzo della famiglia di Rino Gaetano Alessandro che racconterà dello zio come ci sarà Giancarlo Parisi per Fabrizio di Andrè che quindi chi ma ne parleremo nel momento che ci vediamo certo a me mi interessa parlare adesso di Rino certo dicevo questo proprio per dire che l'emozione sarà anche ascoltare qualcosa da Alessandro in riferimento e quindi farci un po' rivivere il periodo di Rino e magari che ne so farci anche scoprire qualcosa che non conosciamo che non abbiamo conosciuto di questo amatico perciò domani stera scopriremo ancora di più di Rino Gaetano ricordiamo che fa parte del calendario dei Vacantusi salutiamo tutti i Vacantusi Nico Morelli Walter Vasta tutti quanti sono stati incredibilmente gentili aperti e immediatamente tra le altre cose sono stato uno sprono incredibile per la nostra associazione esatto una collaborazione che è nata e suppongo non lo diciamo ma suppongo proseguirà anche al termine di questa rassegna perché loro sono veramente hanno parte l'esperienza che vantano e in questo già vastissimo programma teatrale che c'è al Teatro Caldimenti quest'anno bellissimo sia dei Vacantusi che di Amacalabria delle tre associazioni di Teatro P delle tre associazioni che compongono l'APS che ha preso diciamo questa rassegna che produce l'intera rassegna teatrale e lui non ha ci ha spinto Nico tantissimo a far inserire questi quadri ci vede molto lungo è una persona molto esperta e quindi ha inserito e ha voluto tantissimo sta spingendo veramente e ci sta aiutando ecco è nata veramente una simbiosi tra la nostra associazione e l'associazione Vacantusi ed è una cosa bella da cui nascono cose belle prima di chiudere questa intervista che è stata piacevole incontrarti Antonio volevo ricordare che Rino Chetano fu sepolto dopo la morte all'Alverano il cimitero monumentale di Roma e se abbiamo una foto che ci è arrivata vediamo se incontriamo dove c'è la lapide che ricorda Rino Chetano guardate ancora i fans vanno a mettere alla firma un pensiero su quella lapide ce l'avrebbe mandare adesso la legge ecco guardate qualcuno va e mette qualcosa di Rino Chetano mette sempre i fiori freschi vuol dire che un artista che è sempre presente è messo in un luogo comune che emozione ci avrebbe detto ancora tanto avrebbe scritto ancora tanto avrebbe raccontato con il suo cappello il suo estro il suo cilindro tipico e caratteristico perciò non c'è bisogno di avere grandi monumenti per andare a visitare un defunto basta una piccola lapide e già ti dice tutto chi è stato e chi sarà ancora e cosa rappresenta e rappresenterà per i giovani hai capito? l'altra volta parlavamo delle canzoni di un tempo che ancora ce le ricordiamo che ancora si cantano che ancora si suonano e tu mi facevi un po' quella battuta sul paragone alla musica moderna e alla musica attuale cosa sta nascendo di attuale nasce tante cose belle no ma perché prima c'era il cambiamento dell'Italia in quel periodo ancora le generazioni nuove erano i figli dei fiori all'epoca probabilmente anche loro dicevano che non avrebbe mai avuto seguito esatto erano dei ragazzi dei fiori perché era scansonato col suo cappellino che lo prendevano per un cantante di strada esatto invece era uno che nei suoi pezzi metteva la poesia metteva la vita attuale grande la storia grande poesia insomma domani sera vivremo poesia musica divertimento racconti ed emozioni tutto grazie alla vostra note di stelle della vostra associazione veramente meritate un grande applauso grazie e meritate anche qualcosa di più che io quest'anno non vi ho messo dentro perché siete arrivati e l'ho saputo dopo insomma la commissione che era scelto i premiati c'era anche la vostra successione però c'è stato e te lo faremo un altro anno perché dopo questa rassegna meriteranno sicuramente un riconoscimento della gratitudine di tutta l'associazione questo è un anteprima che ti dà un anno prima un anno prima un anno prima e perciò cosa vogliamo dire di più beh vi aspettiamo tutti a teatro domani sera 12 gennaio si comincia alle 20 e 30 sarà uno spettacolo emozionante si comincerà piuttosto puntuale sarà puntuale l'inizio perché lo spettacolo dura due ore piene quindi sarà un concerto uno spettacolo non chiamiamolo solo concerto ma sarà uno spettacolo pienissimo ci sarà da divertirsi ci sarà da emozionarsi ci sarà da cantare da muoversi insieme a questi grandi facciamo vedere la locandina ecco vediamo la locandina ecco la locandina dove rappresenta proprio il concetto domani sera con Alessandro Gaetano giusto? si con Alessandro Gaetano e la Rino Gaetano bene è la Rino Gaetano a Bende e volevo ringraziare lo faccio io stavolta se lo vuoi fare tu i tanti sponsor perché veramente io quando vedo queste cose la partecipazione di tutti questi sponsor mi fa piacere perché questo vuol dire al di là che voi siete persone conosciute vuol dire che diciamo il lato commerciale della città ha anche una cultura vuol dire crescere le aziende diciamo che tra altre cose hanno pubblicizzano le cose importanti collaborato si può dire alla realizzazione di questo evento infatti io ti posso dire una cosa conoscendo tutti i personaggi ti posso fare un elenco no? i fratelli stati hanno vissuto lei da Rino Gaetano si era di tutti Francesco Bibi Caffè Eurodrink è uno che ha vissuto anche l'era di realtà Claudio Arpaia proprio l'età è uguale è quella ecologia oggi è la stessa cosa i fratelli della Cone Lottica Stefano Rocca Stefano sono tutti gente che ha vissuto quella era tu dimmi chi non ti sponsorizzava un evento del genere poi avete messo Lucio D'Aglia con Enrico Porter diciamo no? si e poi avete messo Alessandro Gaetano il cugino il nipote di Rino Gaetano quello che ha i diritti d'autore di Rino Gaetano dove ci raccontare la storia poi ci sarà Giancarlo Parigi che è un collaboratore un collaboratore fiatista fiatista proprio di Fabrizio di Fabrizio e poi chiude con l'unica tappa in Calabria di Beatles Story Beatles Story insomma sono degli eventi importantissimi dove io almeno ti sarà da divertirsi ed emozionarsi domani sera lo vedrò gli altri se Dio vuole li vedrò pure diciamo domani sera ci godremo Rino Gaetano io manderei un'immagine di Rino Gaetano ancora ecco vediamo se arriva un'immagine un'immagine che piace la nostra regia ecco Rino Gaetano chi era Rino Gaetano era quello che l'aria aperta e lui e questa è un'immagine emblematica la sua chitarra dove pensava e diciamo faceva i suoi pezzi insomma dove stava guardando il cielo è sempre più blu il cielo con questa foto vi saluto ti ringrazio Antonio grazie Giovanni in bocca al lupo per domani sera sappiamo affrettatevi per i biglietti perché siamo quasi al sold out si stanno diciamo quasi pieno quasi pieno quasi pieno quasi pieno quasi pieno mi auguro di trovare posto io ci vediamo domani sera alle 20 e 30 presso il teatro delle andretti alle mesi eterne ciao a tutti e grazie Antonio grazie a te buongiorno a tutti